in abbondante acqua salata quanto basta far cucinare le foglie d'olivo per circa 8 minuti nel contempo svuotare il vasetto del ragù di suino nero lucano all'alianico in una padella e mescolare con l'aggiunta dell'acqua di cottura per renderlo più cremoso a cottura della pasta ultimata svuotarla nella padella del ragù di suino nero lucano all'alianico saltare per circa 2 minuti ed eventualmente aggiungere ancora poca acqua di cottura fino al raggiungimento della cremosità desiderata infine impiattare le foglie d'olivo guarnendo il piatto con il caciocavallo podolico DOP e con la mollica fritta del pane IGP di Matera la frisella ai 7 cereali va guarnita con la crema di melanzana rossa DOP di rotonda e con il peperone crusco IGP di Senise Grazie a tutti.